Torna Avellino Viterbese, i lupi sfideranno tra le Muramiche e i gialloblu per la settima volta nella loro storia. Il bilancio è favorevole ai biancoverdi con 5 vittorie ed un pareggio. Le partite contro i Leoni si sono sempre giocate nel campionato di Serie C. Il primo precedente risale al torneo 70-71, gara terminata con il punteggio di 0-0. Poi le due squadre si sono tornate ad affrontare nel campionato 99-2000, 3-0 il finale. Stesso risultato dell'ultima volta due stagioni fa con reti del centrocampista D'Angelo e degli attaccanti Santaniello e Fella. Tra gli ex dell'incontro in programma domenica al partito di Lombardi ci sono il direttore sportivo Carlo Musa che ha vinto il campionato di Diconi Lupi e la Puls Cudetto e con una successiva parentesi Lega Pro e l'attaccante ex Lazio Mamadut Tunkara, 47 presenze e 16 reti con la maglia della Viterbese. Il centro avanti di Michele Marconi è la bestia nera della formazione laziale, 5 golli e un assist in 6 gara giocate con le maglie di Pisa e Alessandria con una tripletta in un'Alessandria Viterbese di Coppa Italia nella stagione 2017-2018.